Nessun accordo per la cassa integrazione straordinaria a favore dei lavoratori della Pali Italia. La CGL punta il dito contro la curatella fallimentare, definendo irresponsabile l'atteggiamento che sta portando all'allungamento dei tempi per la concessione degli ammortizzatori sociali. La Pali Italia, azienda che produce pali per l'energia e l'elettricità, con sede a Parme a Danagni, in Lazio, è stata dichiarata fallita come noto lo scorso 21 luglio. L'incontro, terminato nella tarda serata di ieri tra le organizzazioni sindacali e la curatela, si è concluso dunque con un nulla di fatto. Alla nostra richiesta di accedere quanto prima alla cassa integrazione straordinaria, sussistendo le condizioni di continuità produttiva, fanno sapere i sindacati, la curatela ha risposto condizionando tale possibilità alla sottoscrizione di un accordo in cui avremmo dovuto accettare che in caso di mancata approvazione della stessa cassa integrazione il rischio sarebbe stato totalmente a carico dei lavoratori, sia rispetto a quanto dovuto dal punto di vista economico, sia rispetto alla immediata messa in mobilità. Per questo, prosegue il sindacato, abbiamo chiesto che si riconoscesse subito che non sussistono più le condizioni per proseguire la fase di consultazione sindacale e pertanto abbiamo domandato di passare immediatamente alla fase ministeriale, considerando non opportuno un ulteriore allungamento dei tempi. Incredibilmente, dice il sindacato, nemmeno questa richiesta è stata accettata. Con questo la curatela si assume la responsabilità di dilatare ancora i tempi di attesa per lavoratori estremati dal fatto di non percepire un euro da mesi. Il sindacato confida ora nel proseguire il prima possibile la discussione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affinché i lavoratori possano accedere alla cassa integrazione straordinaria e si costituiscano le condizioni per dare un futuro a quel che resta di questa azienda. Nel frattempo lo stato di agitazione va avanti e nei prossimi giorni potrebbero essere assunte altre iniziative di protesta come quelle andate in scena di recente nel centro di Parma. Sono tante i dipendenti della Palitalia in servizio allo stabilimento parmigiano di Pizzolese, altri ottante in quello laziale di Anagni. La crisi dell'azienda che si occupa della produzione di strutture per reti e impianti elettrici non solo era scoppiata due anni fa. 72 milioni di euro di debiti è richiesta di un accordo di ristrutturazione con le banche creditrici. Un piano che però non ha portato ai risultati sperati.